Per me, Bionni, la parola non lo spiega, è andare al di là. Noi quando veniamo qua è per essere accanto all'altro, no? Sentire come lui sente, proprio imparare insieme, andare insieme per passare queste barriere, per conoscerci e volerci bene. Ho contribuito al Jamfest mettendo a disposizione i miei talenti. Abbiamo cercato di realizzare un'immagine che potesse simboleggiare il titolo del Jamfest, Bionni, andare oltre me stesso. Il risultato è stato questo nastro e il nastro rappresenta la nostra vita, che non è sempre lineare, ma si aggroviglia, si annoda, però ha sempre i due estremi che sono liberi e questi estremi sono un invito a collegarsi con l'altro e a creare quindi un disegno più ampio, esattamente come nella nostra vita. Cantare al Jamfest in realtà significa donare se stesso, ma ricevere anche tantissimo. Come in a settembre al Genn iscolare, un'imagine che è stato un lavoro di relazione, il 13 anni di ragazzo 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 di ragazzo. e abbiamo ascoltato questo ascizio. Ciò che ciò che ha di un'esmercola, ciò che ciò che ha portato un'esmercola. I'm doing scholar Jen We had a wonderful opportunity to be part of this wonderful spectacle The experience here is not easy Here what I am still learning and I'm growing I think it would take a lot of people decades to understand themselves To be able to lose themselves, to be able to accept, to learn The phrase beyond me and beyond all borders means not to sacrifice my own idea But to accept someone else's idea, someone else's culture, type of food, thought process And that's why I would be able to move to this stage I was the biggest step ahead To be able to get people together And to get people who are most happy And to be able to take a view of others And to be able to be our first one, not myself To be able to get people around my country, to make my culture e dare questo passo per venire all'Italia e fare questa scuola internazionale. Beyond me è quello, andare verso l'altro per fare insieme le cose, perché solo non posso. Oppure solo lo posso fare in una maniera, ma che per me va bene. E se voglio fare per gli altri, devo andare beyond me. Mi zampillavano pure dal cuore, c'era una gioia immensa dentro me, e non avevo perduto niente certo di io.